ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare la sfida di distruggere dei contenitori a moli molesti i contenitori sono i container per intenderci questi qua dovete distruggerne sette quindi uno è questo un altro e questo un altro e questo e stiamo a tre questo sono quattro insomma sono tutti vicini cinque eccolo qua dietro ce ne sta un altro sei dovete distruggerne sette quindi ecco qui qui ce ne sono quanti ne volete praticamente adesso vi mostro la posizione qui qua qui ne trovate quanti ne volete dovete distruggerne sette con il piccone con quello che volete l'importante che ne distruggete sette